Facevano la spesa nei supermercati ma non pagavano. I carabinieri li avevano già colti sul fatto. Lo scorso fine settimana è eseguita l'ordinanza di applicazioni di misure cautelari nei confronti di sei persone, due in carcere, due domiciliari e due con obbligo di dimora condivido di uscire nelle ore notturne ritenuti responsabili a vario titolo di furto aggravato e rapine impropria in concorso. I provvedimenti riguardano Francesco Portogallo di 44 anni, annunziata Portogallo di 25, Paola Giunta di 43 anni, Giuseppa Burrascano di 19 e Giuseppa Morgana di 27 anni. L'attività investigativa supportata dalla visione dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianze e da servizi di osservazione ha consentito di individuare tutti i componenti della banda legati da parentela. Banda che si era specializzata nella commissione di ripetuti furti e rapine improprie finalizzate alla sottrazione di prodotti di vario genere ai danni di alcuni esercizi commerciali del centro città. L'accusa dice che il gruppo trafugava merce esposta sugli scaffali occultandola sugli indumenti dopo averla privata dei dispositivi antitaccheggio.